Ciao. Ciao. Hai parlato con tuo padre del Radley? Sì, l'ho fatto. Ti dispiace se resto qui per un po'. È entrata dalla finestra. Voleva chiedermi scusa, spiegarmi. Io ero arrabbiatissima, è sembrato tutto così vero. Emily, se solo ce l'avessi detto, non posso credere che tu volessi incontrare Alison da sola. Pensavo che lo volesse lei. Sembra che stia vincendo. Grazie per l'indizio. Il diario, i posti, le note. Lo stavamo decifrando, storia dopo storia. Oh mio Dio, abbiamo dato Alison ad her. Chi la troverà se la terrà. Andiamo. Oh mio Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.